Sarà il contributo di un tecnico sulla politica naturalmente della giunta, io devo ancora prendere coscienza piena di questo incarico, so che avrò uno staff in gamba e quindi mi varrò della competenza di tutti i tecnici del comune. Il tema delle bonifiche è una partita che lei conosce? Io conosco in parte per il lavoro naturalmente che ho fatto ma conto molto sulla disponibilità dell'ARPA e quindi dei colleghi per sviluppare al meglio le tematiche e soprattutto le tempistiche per raggiungere i traguardi che sono già sul tappeto. Le deleghe assunte dalla dottoressa Vanna Segala sono né più né meno le deleghe dell'assessorato all'ambiente, così come sono state definite fin dall'inizio della nostra attività amministrativa. Sul tema della raccolta differenziata o meglio sugli eventuali aggiustamenti che bisogna mettere in campo per aumentare la condivisione da parte dei cittadini mantovani, questo è un tema che affronterò io in prima persona, naturalmente supportato dal neo-assessore all'ambiente con tutta la sua struttura. Questa è una nomina che io avrei fatto comunque, eravamo pronti fin dal giorno in cui le nomine sono state tolte perché questa nomina non è frutto di accordo fra partiti oppure una nomina suggerita da partiti di governo, una nomina tecnica, una persona di fiducia del sindaco, così come anche tutta la giunta ormai è formata giustamente da persone che hanno la fiducia del sindaco e quindi si potrà lavorare in maniera positiva, senza tensione, insomma in sintonia con i voleri del sindaco, come giusto che sia.